Il problema di questo disordine di cui abbiamo parlato all'inizio, ma questo è un disordine che non è clamoroso come un omicidio fatto da un extracomunitario oggetto di un decreto di espulsione, non è clamoroso come quello che abbiamo visto a Milano, però attiene a denaro pubblico, lavori pubblici, è una cosa molto importante. Allora, che cosa vedete voi in questo e che cosa vi sentite di dire a proposito di questo aspetto qua? Che quello di Ischia è l'ennesimo schema che si ripete. Noi qui abbiamo ad Ischia un sindaco arrestato, Ferrandino, del PD, una cooperativa che in questo caso era CPL Concordia, con un responsabile delle relazioni esterne che è questo Simone, detto Tom Tom per la capacità di riuscire ad avere contatti ovunque e raggiungere persone ovunque e c'è un clan, il clan dei Casalesi, che secondo gli atti della procura e le deposizioni dei pentiti, in un'opera di metanizzazione simile a quella di Ischia a Casal di Principe, sedeva al tavolo con i rappresentanti della CPL Concordia per distribuire subappalti. Cioè, qual è il problema principale in un'opera del genere? Che si fa una grande opera come la metanizzazione, che si aggiudica per esempio una grande cooperativa storica come la CPL Concordia. Con la tecnica dei subappalti, che è dire io do a te una parte di questo lavoro, si presume nelle carte dell'inchiesta che distribuivano a ditte che erano referenti del clan dei Casalesi una parte di questo lavoro. Qual è l'assurdità di tutto questo schema? Che è uno schema che si ripete perché nel Mose, nell'Expo, quindi a Venezia dove hanno arrestato il sindaco Orsoni, a Milano, nell'inchiesta sistema di Firenze, in mafia capitale, c'è sempre un politico corrotto, una cooperativa e delle ingerenze criminali. Qual è l'assurdità di Ischia? Che Ferrandino, sindaco di Ischia del PD, era stato candidato da Renzi alle europee, nonostante fosse già indagato in questa inchiesta. E nonostante la pressione sociale che era stata fatta per non candidarlo, in Parlamento europeo, con l'immunità parlamentare, Vudok non lo poteva neanche arrestare. E queste sono responsabilità che cadono in capo a questo governo, al governo Renzi, che è segretario del partito e al candidato Ferrandino. In generale, quello che noi vediamo in questo momento è uno schema che si ripete e il pericolo che proprio perché le cooperative godono di un grande consenso sociale, perché la maggioranza delle cooperative in questo paese fa un lavoro enorme, entrano negli appalti e poi purtroppo diventano volontariamente, come in questo caso o involontariamente, la cerniera tra il fenomeno corruttivo della politica e le organizzazioni criminali. Devo chiedere una prima cosa, poi abbiamo tempo di approfondire l'argomento.